Oggi c'è RadioRomalibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org Sembra essere diventato ormai un triste appuntamento di cronaca settimanale, ma decisamente nostro malgrado. Faremmo volentieri a meno di dar conto ogni volta dei fiumi di sangue cattolico versato o comunque degli abusi patiti nel mondo della Chiesa, a dispetto del silenzio e dell'indifferenza generale, in primo luogo di quell'Occidente un tempo cristiano e oggi apostata. Anche per questo, anzi ancora più per questo, è importante viceversa informare, perché almeno qualche voce, per quanto debole, si levi in questo clima di omertà complice. Partiamo dall'India, dove si è registrata un'impennata nei casi di violenza contro i cristiani. Nei soli primi nove mesi dell'anno si sono verificati ben 305 episodi, con un picco proprio a settembre, 69 episodi, seguito da agosto 50 episodi, gennaio 37, luglio 33, marzo, aprile e giugno 27, febbraio 20 e maggio 15. Ha suscitato del resto orrore il video diffuso via social, in cui lo svami, in pratica una guida spirituale, Parmatmanand, leader religioso hindu dello stato del Jatisgar, ha dichiarato senza mezzi termini, Decapitate quelli che vengono per convertirvi. Vi chiederete perché un santo come me parli di violenza. Direte come puoi essere un santo se accende il fuoco. A volte il fuoco deve essere acceso, anche Anuman, divinità hindu, lo ha fatto. Vi dico, chiunque venga a convertire nella vostra casa, nella vostra strada, nel vostro quartiere, nel vostro villaggio, non deve essere perdonato. Lo sconcertante invito è stato dato per contrastare le conversioni al cristianesimo, ed è stato applaudito, tra gli altri, anche dall'ex presidente della Commissione Nazionale per le Caste Svantaggiate, Nand Kumar Sai. Nel corso di una manifestazione svoltasi nel distretto di Surgusha, la presenza anche di alcuni big del PCP, Baratisha Yanata Party, il partito nazionalista hindu del premier indiano Narendra Modi. Secondo il sito indiano Wire, dopo tale evento, il sovrintendente di polizia di Sukma ha inviato una lettera a tutte le stazioni collegate, ordinando loro di sorvegliare i missionari cristiani e i loro neofiti per fermare queste attività definite come illegali. Come riportato dall'agenzia Asia News, però, padre Babu Joseph, avverbita, ex portavoce della conferenza episcopale indiana, ha spiegato in modo chiaro la situazione. Le parole dello Swami Paramatmanand, ha detto, hanno superato tutti i limiti. Sta chiamando apertamente la violenza contro una parte della popolazione indiana per la sua appartenenza religiosa. Ed è ancora più grave che a farlo sia un religioso hindu. Le autorità locali devono prendere provvedimenti contro chi diffonde l'odio. Da notarsi come quello di Chattisgar, ovvero lo Swami Paramatmanand ha esortato a decapitare chiunque converta, sia il secondo stato per numero di casi di violenza contro i cristiani, 47 in 9 mesi, subito dopo l'Uttar Pradesh, 66, e prima del Karnataka, 32, dello Jarkhand, 30, e del Madhya Pradesh, 26. 23 le chiese vandalizzate dalla folla, mentre le autorità e la polizia hanno impedito le preghiere domenicali e altre attività religiose in ben 85 casi, accusando anch'essi i cristiani di conversioni, ciò che, dati alla mano, risulta totalmente falso e infondato. In Pakistan, a Sialkot, per la precisione, nel nord-est del Punjab, lo scorso 19 ottobre alcuni musulmani hanno distrutto coi trattori numerose tombe cristiane nel cimitero più antico della regione, rivendicando l'area come propria, pur non potendo vantare alcun diritto su di essa. Prevedibilmente sono rimaste senza risposta le proteste delle famiglie colpite dal lato vandalico, le forze dell'ordine non si sono minimamente occupate dell'accaduto. In Cina, ancora, il potere comunista non ha allentato la propria feroce morsa contro i fedeli, anzi, questa volta ha chiesto, e quel che è peggio ottenuto, alla Apple, di rimuovere in tutto il paese, dal proprio App Store, l'app della Bibbia e quella del Corano, che, secondo le autorità cinesi, avrebbero violato le norme vigenti, proponendo illegalmente contenuti religiosi. Immediate, ma per ora vane, le proteste dei vari gruppi per i diritti umani, che hanno subito segnalato questa nuova violazione della libertà religiosa. A confermare l'accaduto è stata la stessa Apple all'emittente inglese BBC. In Sud America, invece, in Bolivia, per la precisione, il difensore civico Nadia Cruz, con i suoi funzionari, ha guidato lo scorso 27 ottobre una marcia verso la sede della locale conferenza episcopale, vandalizzata poi da alcuni dei partecipanti al corteo, con urla e slogan dichiaratamente e vergognosamente anticattolici. I gnoti hanno affisso negli uffici manifesti e fatto scritte con lo spray come «Niente madri bambine, stupratori e preti perversi, io non sono pro-life, togliete i dosari dalle nostre ovaie, se c'è stupro c'è aborto». L'accusa rivolta alla Chiesa è giunta da alcune istituzioni governative supportate dalla Gran Cassa dei Media, ed è quella di avere costretto un undicenne incinta a seguito di uno stupro a non abortire e di averla trasferita in una località protetta. Di vero c'è esattamente l'opposto, vale a dire che molte organizzazioni abortiste hanno fatto loro sì pressioni sulla giovane per indurla ad uccidere il bimbo che portava in grembo, ciò contro cui si sono chiaramente espresse la ragazza e sua madre. La giovane è stata rimessa dall'ospedale lo scorso 26 ottobre e con una lettera scritta di proprio pugno all'indomani ha rinunciato anche formalmente ad abortire. Su richiesta dall'ufficio per la tutela di bambini e adolescenti, per lei e per suo figlio è stata individuata una struttura di proprietà della chiesa in località Santa Cruz della Sierra, ovvero il sedere al riparo da indebite ingerenze e dai riflettori della stampa, ciò contro cui si è scatenato, è il caso di dirlo, l'inferno. Per la Costituzione, il difensore civico, che opera in modo indipendente dal governo, dovrebbe occuparsi solo di tutela dei diritti umani. Invece, secondo le dichiarazioni rilasciate dalla dottoressa Susana Ince, il consulente legale della Conferenza Episcopale Boliviana, nel corso di un'intervista al programma No Mentiras, trasmesso dalla rete televisiva PAT, molti di coloro che hanno partecipato al Blitz indossavano i gilet dell'ufficio del difensore civico. E ha annunciato una denuncia, essendo stata deliberatamente danneggiata da proprietà della conferenza dei Vescovi e essendo stati identificati gli autori dell'esecrabile gesto. Dal canto suo la chiesa ha precisato di non avere in alcun modo interferito nella vicenda della ragazza, ma di aver fatto solo in modo che la volontà sua e di sua madre, nonché il diritto alla vita del piccolo, fossero rispettati anche dalle stesse autorità governative. I Vescovi hanno evidenziato come nessuno possa essere costretto ad abortire, nemmeno di fronte alla gravità della violenza sessuale, perché l'aborto è un crimine e nessuno può essere obbligato a compiere un simile reato. Chi fosse del resto alla testa del corteo contro la sede della conferenza episcopale non è un segreto per nessuno, dato che lo stesso difensore civico, Nadia Cruz, ha pubblicamente dichiarato «sono andata personalmente a guidare la manifestazione dal mio ufficio sino alla sede della conferenza episcopale nell'esercizio delle mie funzioni per denunciare le violazioni dei diritti umani che la Chiesa sta commettendo in questo momento». Incredibile, ma di questo nessuno nel mondo ha saputo nulla. Insomma, ancora una volta abbiamo fatto idealmente il giro del globo passando dall'America all'Asia, ma la musica resta purtroppo la stessa e per i cristiani rassomiglia sempre più a una marcia funebre. Oggi c'è RadioRomaLibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org e per i cristiani rassomiglia sempre più a una marcia